Rilanciare l'integrazione tra le misure cautelare, il territorio e la comunità di accoglienza a favore dei detenuti. Questa mattina se ne è discusso al carcere di Bellizzi di Avellino. L'incontro, organizzato dal garante dei diritti delle persone private e delle libertà personale della provincia di Avellino, dalla Caritas di Ocesana, ha visto la partecipazione di autorevoli personalità, tra cui anche l'assessore Fortini, che ha sottolineato l'impegno della Regione per il sistema carcerario. La Regione ha finanziato con 4 milioni di euro dei programmi di formazione che vanno in questi due sensi, cioè sia per migliorare quella che è la coscienza di ciascun individuo, perché è chiaro che nel momento in cui esci non devi rappresentare un pericolo per la società, d'altro canto devi anche essere in grado di capire che è un'opportunità che ti viene offerta. È importante creare la possibilità per le persone che ne avessero requisiti soggettivi e oggettivi di scontare la pena all'esterno del carcere, di essere comunque controllate, di avere opportunità di studio, di lavoro, di reinserimento, che non siano solo quelle tipicamente carcerarie. Le misure esterne al carcere determinano questo duplice effetto. Prima di tutto sottraggono all'ambiente carcerario persone che non possono definirsi dei criminali, ma si ritrovano lì magari per un solo errore che hanno commesso nella loro vita.